bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re della registra cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1983 sahara nel 1928 la giovane figlia di un costruttore d'auto dail goddor decide per salvare l'azienda paterna di partecipare ad un massacrante rally nel sahara per poter partire dail è costretta a mascherarsi da uomo ma con l'aiuto dei suoi due meccanici riesce ad ingannare tutti il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciuto molto il film l'interpretazione della sceneggiatura è di genere avventura la durata è un'ora e 51 minuti il regista andrew w mcgline la regia è buona bravo regista paese di produzione regno unito stati uniti d'america l'attrice brock shields brava attrice nel film anche lambert wilson horse bullshots john re davis tuvia thavi ronald lacey steve forest cliff potts perry lang terence hardyman john mills gabby amrani jacob ben syra paul maxwell barry langford edra kaffrey joseph shilohach greg powell rocky taylor jane barry david lodice danny mugia saluto anna guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto